Al mio 3 una imitazione del grande Paolo Ruffini, questo famoso personaggio che appartiene sia alla web che alla tv italiana. Famoso, celebre per i suoi doppiaggi, chiamati sul nido del cuculo, che a me fanno impazzire dalle risate. Un video omaggio e si distima nei suoi confronti, lo trovo un personaggio divertente, simpatico, garbato, diretto e al tempo stesso piuttosto sagace. Vando alle ciance, 1, 2, 3, via. E niente, ho fatto questi spessoni di video che si chiamano proprio sul nido del cuculo e vengono visti sempre tanto dagli utenti del web. Piace tanto, sono dei video questi, lo piaggio, ho iniziato un po' così. Considera che quando l'ha visto la mia mamma si è messa a ridere un sacco, ha detto boia de tu sei un grande, caro Paolo. E io ho detto mamma non ti preoccupare, la mia mamma è rimasta contentissima quando ha visto questi spessoni di video che le hanno veramente regalato emozioni e sensazioni di puro benessere. E niente, ho detto boia de mamma, te so piaciuti? E lei mi ha risposto, boia, figliolo mio come ti so piaciuti, sei stato proprio un grande. Ecco, l'ho fatto solo per fare la regla di mia mamma, ma anche il mio babbo. Anche perché, come ben sapete, essendo un livornese doc, mi piace fare ridere e leggere alla gente, le persone, facendo fare questi, chiamiamoli, figli spessoni. In Jojani Jojani 2 ho iniziato e piano piano mi sono sviluppato sempre di più e ho fatto ridere gli altri grazie al mio modo di essere e al mio modo di agire. Ecco, non ho nessun altro dato da aggiungere, se non che le persone mi seguono e mi stimano sempre di più e questo per me è un motivo in più per andare avanti e un motivo di vanto. Quindi seguitevi sempre e soprattutto seguite sempre il nido del cuculo, perché il nido del cuculo è uno spazio dove faccio doppiaggi, divertenti, la gente mi segue. Tra l'altro sto affinando un ultimo spettacolo nel teatro che ha avuto un successo gravoroso e adesso vediamo cosa succede. Intanto saluto tutti quanti, saluto anche la mia mamma, ciao mamma, saluto anche l'ervi babbo, babbo ciao, e niente, ho fatto poi un film anche con Frank Matano, saluto Frank Matano, ciao Frank, e spero che questo video, questa intervista passi anche su canale 5 e su altri circuiti della tv nazionale. Va bene ragazzi, vi saluto, vi saluto, e niente, grazie a tutti, grazie anche alla mia mamma, ciao mamma e al mio babbo, ciao babbo. Va bene, questa è la ripetazione che ho fatto ragazzi, spero che vi sia piaciuta, li vedo, se voi andate su youtube e cercate sul nido del cuculo, troverete questi divertentissimi doppiaggi fatti per mano del bravo, simpatico e divertente Paolo Ruffini. Iscrivetevi al canale mio, conoscitore italiano, commentate, un salutone caro e al prossimo video.